Eccoci qua, siamo alla tagliata di Sutri, una piccola tagliata etrusca. Questa è tipo la tagliata fantibassi di Civita Castellana. Questa è più stretta, però è più bassa, le varie di Civita sono più alte. Soprattutto è più lunga, questa è corta, arriva fino lì dietro, un pezzetto qua dietro arriva. La Civita è lunga 250 metri, alta quasi 30 metri. Un po' più larga come tagliata, però questa è una bellina. C'è una qui e un'altra qui accanto, però è tutta sporca. Siamo nel parco dell'antichissima città di Sutri. Si stringe, ma finisce lì dietro lì, diciamo il bello della tagliata è questo pezzo qua. No, Fernando fagli vedere quel pezzo di roccia spaccato che si vede l'albero cresciuto dentro la valliana è uscita, è cresciuta. Bello! Non c'è niente di buvello nel sottobosco. Senta la cesta, vediamo la tagliata. Dove stai? Guarda due funghetti là. Due funghetti, tra lalà. Entra dentro, sono fai a capire a vederla che da fuori che vedi a fare come te pare ma che c'è stata quindi ci sarà mai ci siamo di una volta si